Musica Va a saltare Tony, arriva il traversone, c'è un contatto, Buffon! E calcio d'angolo! Miracolo di Buffon, abbiamo rischiato tantissimo sul colpo di testa di Kalinyshenko e c'erano state anche proteste, Buffon è andato contro il palo Lenti ad uscire, abbiamo permesso al team di saltare l'uomo, qui Cannavaro che va in un colpo E' un'altra volta per Thimmin Kildan è in lì, è Duff! Oh, un buon save per Oliver Kahn! Mick McCarthy dovrebbe pensare che Damien Duffe ha equilizzato E' un buon knockdown da Kildan E' un buon save per Duff, è un miracoloso save E' un buon save, si viene, si tratta, si tratta, si tratta E' un buon passaggio L'ultimo passaggio Emmerich to take the kick E' un buon passaggio E' un buon passaggio E' un buon passaggio che il mondo ha mai visto Lev Yashin E' un buon passaggio E' un buon save per Torsfitt Well Nicola Berti's had a great save from the Tottenham keeper Vidal! 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 Vidal ha the initial head up Look at Vidal at number 8, he pulls in unguarded there and Ponce from point blank range against Valladares E' un buon passaggio in un buon passaggio E' un buon passaggio in un buon passaggio Ha parato top, il colpo di testa, parato sulla linea, il colpo di testa di Paolo Isidoro. Pericolosissimo il colpo di testa di Leandro, parato nettamente. Il colpo di testa di Leandro, il colpo di testa di Leandro, parato nettamente. Il colpo di testa di Leandro, parato nettamente.